eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video di news su call of duty 4 o meglio su call of duty modern warfare remaster della versione rimasterizzata di code 4 la notizia arriva direttamente da call of duty italia il gruppo vi lascio come sempre qui sotto tutti i link per iscrivervi a gruppo e pagina facebook praticamente un ragazzo si è accorto che all'interno dello store dps 4 è possibile scaricare gratuitamente call of duty modern warfare remastered avete capito bene sembrerebbe proprio gratuito il download di call of duty modern warfare remastered però fermi qui dato che tanti di voi mi hanno segnalato la cosa e finalmente ho anche l'immagine che riguarda appunto la notizia chiariamo delle cose per poter giocare a call of duty modern warfare remastered anche se ve lo scaricate non avete fatto il preorder della legacy o deluxe edition non potrete giocare a call of duty 4 infatti una volta che lancerete il gioco proverete a scaricarlo senza avere appunto nessun preorder delle edizioni speciali di call of duty infinite warfare vi apparirà questo messaggio non si è in grado di acquistare questo prodotto per il seguente motivo non si possiede mv1 remastered token quindi il codice che praticamente potete trovare all'interno ad esempio della versione legacy quindi vi sconsiglio attualmente di andare a scaricare call of duty modern warfare remastered se non avete comprato la versione legacy o deluxe quindi non avete il codice in questione perché perderete soltanto tempo dato che tanti di voi mi hanno segnalato la cosa e mi hanno detto ma se lo scarico ci posso giocare via dicendo ragazzi fermatevi non lo mettete a scaricare perché tanto non vi funzionerà è soltanto tempo perso per poter giocare vi servirà ovviamente il codice che troverete nella confezione e il disco inserito di call of duty infinite warfare ovviamente se prendete la versione fisica del gioco se invece digitale basterà aver installato all'interno della console infinite warfare appunto digitale fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale